Soprattutto nel sacramento del battesimo che per antonomasia è il momento nel quale si accolgono i nuovi figli che arrivano all'interno della Chiesa. Quindi Papa ci sta aiutando ad andare in questa direzione che poi è sempre stata la direzione della Chiesa. È un messaggio di apertura e accoglienza quello di Alessandro Bivignani, la parroco che ha battezzato i gemellini delle due mamme di Anghiari. Lo ha fatto in linea con quanto affermato nei giorni scorsi dal documento senza precedenti e approvato da Papa Francesco, con il quale si dice sì a battesimi di persone transgender e figli di coppie omosessuali. In qualche modo conferma l'apertura che la Chiesa deve avere verso la vita delle persone. La coppia ha seguito il percorso di avvicinamento al sacramento lo scorso 19 giugno il battesimo nella Chiesa della Propositura di Anghiari. Mi hanno contattato e ci siamo incontrati sia per concordare ovviamente data e orario del battesimo e anche per incontrarci per un momento di preparazione. Venta l'occasione non tanto per fare il catechismo sul battesimo ma è l'occasione per il parroco, per conoscere, per incontrare. I gemellini di Anghiari sono nati nel giugno 2022 dopo che una delle due madri si era sottoposta ad inseminazione artificiale, ovuli fecondati poi passati con transfer embrionale alla compagna che li ha partoriti all'ospedale San Donato di Arezzo. Solo la mamma che ha dato la luce ai piccoli però è riconosciuta come tale, da qui una lunga battaglia legale, pendente un pronunciamento del Tribunale dei Minori di Firenze sull'adozione speciale. Grazie